Con I Will Always Love You, a tale quale, il ricordo di Whitney Houston. If I should stay, I went home. I'm living in the way, and I will always love you. 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 Congratulations. I will always love you. direi inattaccabile cioè non c'è niente da dire anche il trucco molto somigliante infatti ringrazio veramente Alessia e Paolo che sono stati meravigliosi come sempre tutta la squadra ragazzi dovresti ringraziare ore e ore veramente per tutto quello che ricevete un solo voglio aggiungere solo una cosa nella parte alta era ancora più somigliante la voce l'iniziale è un pochettino così perché c'è un'altra missione sul fiato lei all'inizio ma per il resto è veramente inattaccabile io cominciavo ad avere delle certezze che si sono sbriciolate aspettate perché fino alla fine avrete delle sorprese brava anche io sono d'accordo con l'oretta che c'erano dei momenti che non era Whitney Houston e nelle parti più alti ovviamente sì è la verità il pubblico disegno cioè sai questo è un programma che si chiama tale e quale ci sarà un motivo quindi se si fosse tale e quali a tutti saremmo siamo tutti dando siamo tutti dando se vogliamo veramente cercare per loro diciamo nelle parti più basse ovviamente quelle più alte poi la prendevi perfettamente però devo dire una cosa io penso che quando un artista riesce comunque perché quando tu sei partita senza musica lì veramente ci sta un momento che per me è stato un brivido quando un artista riesce a dare dei brividi che assomiglia a un'altra o che non assomiglia a un'altra è una grande artista questo è un grandissimo complimento molto bene posso prendermi un minuto? mezzo secondo mezzo secondo allora saluto tutte le persone che mi stanno sostenendo veramente il mio paese Castellammare del Golfo e il primo cittadino e tutte le persone che veramente da tutta l'Italia mi stanno aiutando e sostenendo in questi mesi forzati ciao grazie